Cosa succederà nelle prossime puntate di Uomini e Donne? Ecco qualche anticipazione che rivela quanto accaduto durante le registrazioni. Nel corso del noto dating show condotto da Maria De Filippi, numerosissimi sono infatti le sorprese e i colpi di scena che tengono incollati milioni di telespettatori al piccolo schermo. Siete curiosi di sapere cosa sta per accadere durante i prossimi episodi del seguitissimo programma? Sicuramente, si vivranno molte altre splendide emozioni. Questo quello che rivelano le anticipazioni di Uomini e Donne, il trono classico. Le nuove puntate del dating show sono state registrate in data 11 ottobre 2021, e adesso attendono solamente di essere trasmesse. Sapete cosa succederà? Innanzitutto, Matteo ha fatto la sua sorprendente scelta, il giovane ha infatti eliminato Francesca e Valentina, e ha scelto la bella Noemi. Dopo l'esterna con quest'ultima, ha infatti seguito il consiglio di Raffaella Mennoia e Agì ha fatto la sua scelta, decidendo di iniziare una relazione con lei e di viverla soprattutto lontano dai riflettori. Andrea e Nicola ha intanto provato un'esterna con Ciprian e Alessandro, con entrambi i ragazzi, c'è stato un bacio e sono usciti fuori molti elementi delle loro vite. Ciprian ha infatti confessato la malattia e la morte di suo padre, oltre che tutto il dolore provato per questo tragico evento. Anche con Alessandro c'è stata una sorta d'intimita, lei ha infatti mostrato a lui alcune foto della sua infanzia che come affermato da lei stessa, non stata molto semplica. A tal proposito, Gianni Sperti ha come sempre detto la sua, dichiarando di aver visto un bacio finto e costruito tra Andrea, Nicole e Ciprian, e un bacio sincero tra la giovane e Alessandro. Infine, lei e Ciprian hanno ballato in studio, come andrà a finire? Chi sarà la scelta della ragazza? Le anticipazioni sul trono over. Antonio ha confessato di essersi innamorato di Angela, i due hanno cosa deciso di uscire insieme fuori dalla trasmissione. Intanto, Marcello sta imparando a conoscere Marika, nonostante lei non sia attratta fisicamente da lui. Entrambi hanno per a quadrato scelto di continuare a vedersi per comprendere meglio i propri sentimenti. Nel frattempo, Mario afferma di non aver affatto apprezzato il modo in cui Marcello ha trattato Ida. Quest'ultimo ha cosa una crisi di pianto nell'assistere alla scelta di Matteo e Noemi e a quella di Antonio e Angela. Cosa, improvvisamente, Ida si alza e va ad abbracciare Marcello per consolarlo. Cosa accadrà? Cosa, improvvisamente, Ida si alza e va ad abbracciare. Cosa, improvvisamente, Ida si alza e va ad abbracciare.